Ciao, sono Francesco Rossi, sono il Presidente dell'Associazione Modo. Siamo qui ospiti in questo spazio bellissimo della Camera di Commercio del Future Forum per un progetto finanziato dalla comunità europea. Siamo qui assieme a 32 giovani di 8 paesi del mondo. Un progetto che ha come scopo aiutare i giovani a innovare nel campo creativo, trasformare idee di business in possibilità concrete. Attraverso una settimana durante la quale docenti di project management, di business plan, di tecnica di comunicazione aiutano i ragazzi, si arriverà alla creazione di un patch a cuce finale. Sabato 29 marzo al Teatro San Giorgio, siete tutti invitati. In questo patch a cuce ragazzi presenteranno le 5 idee sulle quali finora stanno lavorando. idee internazionali in cui l'innovazione è data sì dal contenuto ma anche dal modo. Un modo che si è ispirato dalla relazione fra le persone. Vi aspettiamo, se volete potete passare a trovarci qui al Fiori di Future Forum. Ciao!